La città, piange Pasquale Marino, sindaco del comune di Capaccio Pestum, per quattro volte tra il 1978 e il 2011, è stato un protagonista della politica locale e una figura politica importante di quella salernitana. Tanto si è speso e tanto ha fatto per la sua terra e la sua gente, raccogliendo la stima, la fiducia e l'affetto di tutti, con lui Capaccio Pestum perde il simbolo di un'età fiorente. Alla moglie, ai figli e ai nipoti va il sentito abbraccio mio e dell'amministrazione comunale dell'intera comunità di Capaccio Pestum, così il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, dopo la notizia della dipartita dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, Pasquale Marino. È stato primo cittadino per ben quattro volte negli anni 1978-79, 1995-99, 1999-2004 e 2007-2011, rappresentando un'icona assoluta della politica locale e provinciale, essendo stato anche vicepresidente con delega al turismo ed assessore all'agricoltura della provincia di Salerno. I funerali si terranno domani, sabato 23 gennaio alle ore 9.30, nella chiesa di San Vito Martire, in piazza Santini.